Il buongiorno si vede dal mattino recita il proverbio ed effettivamente a giudicare dalle prime impressioni che avevamo avuto l'impatto del senso unico nel parcheggio lato esterno del centro commerciale di sant'orso non poteva che essere positivo l'apertura sulla strada lato monte ha permesso così di evitare tappi ed ingorghi tra chi entrava e chi usciva e chi doveva parcheggiare con grande dispendio di tempo spreco di benzina ed aumento dello smog soprattutto in una zona delicata dove c'è anche una scuola per l'infanzia ed un'altra concentrazione di pedoni contesto fortemente voluto se in primis proprio dagli esercenti commerciali del luogo si va benissimo così perché comunque la gente prima si c'era l'ingorgo in fondo invece adesso così scorre meglio molto ma anche la gente proprio sento molti commenti positivi io mi sono battuta per il senso unico quindi proprio una promotrice del senso unico anche perché la mattina orario scolastico era un inferno andata ritorno parcheggiato ovunque selvaggiamente invece adesso va meglio però ancora devono capire molti che senso unico forse un pochino più di di segnaletica più decisa però va molto meglio ci voleva ancora un po un casino la viabilità però è meglio di prima si si è molto più circolabile più facile circolare a parte qualcuno che deve ancora memorizzare la nuova situazione ed inconsciamente ripercorre il tragitto precedente facendosi anche qualche contromano il tutto sta procedendo secondo le aspettative anche se c'è qualcuno che di parcheggi non ne ha mai abbastanza ma in generale il gradimento dell'utenza è al massimo dei livelli come va col senso unico qua si trova bene io sono di passaggio però insomma l'ha trovato se no è una cosa utile sicuramente sì perché evita tornare indietro retromarci casini esci tranquillamente meglio si va meglio una soluzione ideale era ora era ora era ora era ora è la parola giusta no perché era era veramente problematico perché poi parcheggiano in entrambe i due lati della strada e non non era funzionale contenti io sono contenta signora come va col parcheggio qui va bene è la prima volta che c'è il senso unico va bene meglio di prima non mi sono accorta ma mi hanno mi hanno sollecitato a guardare il divietto come vede il senso unico qui attorno era meglio sì 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 secondo me sì quindi va meglio insomma rispetto prima sì